Musica 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 Salve a tutti ragazzi Oggi siamo qui su Days from Space Mutant Blobs ok eravamo rimasti le terre malsane ok si c'è la musica che mi piace c'è tutto tutto allora come si gioca? prendiamo tutto c'è tutto tutto c'è tutto tutto c'è tutto tutto c'è tutto tutto negli ultimi livelli comunque c'è tutto il bordello e perchè non potesco perchè noi praticamente ci ripiccioliamo nel senso ci ripiccioliamo se noi siamo di un metro arriviamo a tipo 50 cm il livello d'uomo non ho capito questo però negli ultimi livelli il pilato dì che non va a salire e mi gioccolerà praticamente al gioco e se qui non si va non sono arrivati oddio no 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 questi sono brutti no 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 questi sono bastardi dentro eh no 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 dai bo dai bo dai bo ok ok cerca punto ha preso no non mi ricorda nessuno non mi ricorda nessuno Angry Birds bello è proprio un bel tiro all'acqua stai caldo andiamo avanti sìiii io voglio mangiare questi non posso se ci sono ok 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 uiii 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 la casa è piccola ci sono eh no va a riducire qualcos'altro e' un uovo di piccolo eeee a bala habala i no, tutto dove credi- di me sei venuto fuori- dell'uovo di Pasqua e' ovvio e' l'uovo di Pasqua no dovremmo giocare ok ma posso mangiare adesso invece lo muovo un pene noo perche' c'ho delle scude di merda e vabbè nooo eh! ha rotto un gatto non lo avevo chiesto uuuuuh uuuuuh andiamo andiamo a borghà cerchi di morire di disegge via perchè? ah è colpa di mio padre basta c'è pasta è inutile scusa una cosa eh dicami padre oh no oh no andiamo andiamo a mangiare come è quello del tasto? ah ok bravo anche questo livello devo che mi guardi abbia finito il livello ok ciao 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 ciao